Una giornata di squalifica per Sallei Montari e la decisione presa dal giudice sportivo è spiegata sul comunicato facendo riferimento al fatto che il giocatore ganese è stato espulso a fine gara per doppia munizione la prima per proteste, la seconda per comportamento non regolamentare in quanto Montari ha lasciato il campo senza l'autorizzazione del direttore di gara. Domenica scorsa al Sant'Elia il centrocampista ganese era stato fatto oggetto di insulti razzisti da alcuni tifosi del Cagliari e vanamente aveva richiesto a Minelli di Varese di intervenire anzi l'arbitro aveva mostrato il giallo allo stesso Montari che poi aveva deciso di abbandonare il campo lasciando il pescare in dieci uomini nei minuti di recupero. Non solo, il giudice sportivo non ha preso provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio in base alla relazione dei collaboratori della Procura Federale e al referto arbitrale i pur deprecabili cori di discriminazione razziale si regge nel comunicato sono stati percepiti nell'impianto in virtù anche della protesta silenziosa in atto dei tifosi come segnalato dagli stessi rappresentanti della Procura ma essendo stati intonati da un numero approssimativo di soli dieci sostenitori e dunque meno dell'uno per cento del numero degli occupanti del settore circa duemila non integrano dunque il presupposto della dimensione minima che insieme a quello della percezione reale è alla base della punibilità dei comportamenti in questione peraltro non percepiti dagli ufficiali di gara come refertato dall'arbitro A portare la solidarietà a Salle e Montari è piombato nel pomeriggio da Roma al centro sportivo Poggio di Lurivi di Marina di Città Sant'Angelo il console onorario del Ghana in Italia, Massimiliano Colasuonno Taricone che ha voluto incontrare il 34enne calciatore del Pescara per capire cosa è accaduto domenica scorsa ascoltando la versione del giocatore il colloquio fra il console del Ghana in Italia e Montari è durato oltre mezz'ora poi il diplomatico è ripartito alla volta della capitale il caso intanto ha avuto una notevole eco internazionale l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Zaid Rad Halussein ha reso omaggio a Montari giudicandolo un esempio nella lotta al razzismo è necessario fare di più di fronte alle espressioni di razzismo a livello nazionale o internazionale sui campi di calcio ha detto Zaid in un incontro a Ginevra con la stampa l'ONU sostiene la libertà di espressione ha aggiunto Zaid ma l'incitamento all'odio e potenzialmente alla violenza è qualcosa a cui si deve prestare attenzione sulla vicenda è intervenuto in maniera incisiva anche il quotidiano londinese The Guardian che ha chiosato l'Italia fatica a fermare i cori razzisti nei suoi stadi e ci sono stati già numerosi episodi negli ultimi anni ricordando anche il caso che ha coinvolto l'allora milanista Boateng nel corso di una amica uguale sul campo della Propatria nel gennaio 2013